Una tecnica universale che ognuno può personalizzare aggiungendo il proprio talento. La marimba, le impugnature, il suono, la tecnica. Ginnastica preparatoria per l'impugnatura da marimba solista. Spesso, e a torto, si sottovaluta la ginnastica preparatoria. Invece, con pochi e semplici esercizi, si acquista subito la sicurezza dell'impugnatura e una buona indipendenza delle dita che guidano le quattro bacchette. Indipendenza delle dita su distanze fisse. Il numero sulla pausa indica la bacchetta che va tenuta ferma sulla tastiera, mentre si alza l'altra con il solo slancio delle dita. Esercizi per i primi spostamenti. Articolazione nei salti per moto contrario. Esercizi di base per l'apertura fino all'ottava. Apertura e chiusura con doppie note e arpeggi. Articolazione per lo staccato e il legato. Articolazione per la percussione ai bordi. Apertura e chiusura con intervalli cromatici. scale a intervalli misti per l'apertura e chiusura. apertura e chiusura con doppie note. sequenze per la flessione dei polsi e per potenziare le piccole articolazioni. Gli studi, assieme ai più impegnativi brani inediti di autori contemporanei, rappresentano un primo banco di prova per chi, attraverso le varie sezioni, ha imparato a trattare e a padroneggiare tutti gli aspetti tecnici della marimba. Applicazione del tremolo Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggi. Poliritmia in stile contemporaneo Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti. Sovrapposizioni ritmiche con gruppi regolari e arpeggiare tutti gli aspetti.